eccoci qua siamo live buonasera benvenuti a tutti scusateci ma abbiamo avuto dei problemi tecnici quindi questa sera saremo in diretta su facebook proverò durante la diretta a sistemare a metterla insomma ad avviarla anche su youtube se no caricheremo poi il video in seguito intanto ecco benvenuti grazie a tutti per essere qui e grazie nicoletta scott bentornata grazie per essere qui con noi questa sera visto che abbiamo avuto appunto dei problemi tecnici a maggior ragione vi chiediamo di farci sapere nella nella chat per favore se ci sentite ci vedete bene intanto ecco che tutti finiscono di collegarsi ho il piacere di presentare nicoletta scott medico chirurgo specialista in endocrinologia e malattie del ricambio nicoletta pratica come libero professionista dal 1991 ed è socia di tempo di lana opificio della maglia di bologna questa sera nicoletta ci spiegherà come l'intreccio dei fili si rivela come un autentico superfood per la nostra mente ma non dico altro siamo tutti curiosi di saperne di più ci spiegherà lei insomma maggiori informazioni e prima però di passare prima però di passare la parola appunto alla nostra relatrice vorrei spendere ancora due parole sono sarah cassanelli collaboratrice del progetto family academy ideato da immobiliare san pietro che è un'agenzia che opera nel settore immobiliare da 38 anni sui territori di ferrara bologna imola e cervia nel 2016 family academy è partita come un progetto sociale dedicato alla formazione principalmente su tematiche di sicurezza e primo soccorso per poi evolversi in una vera e propria comunità che si occupa ecco di benessere della persona qui mandiamo un saluto e un abbraccio no nicoletta alla paola ecco diciamo che questo è modo di fare responsabilità sociale di impresa e di ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto e che continuano a farlo vi invitiamo a seguirci sulla pagina facebook di family academy a condividere la diretta su facebook e a iscrivervi al nostro canale family academy di youtube vi invitiamo anche a dare un'occhiata al nostro sito web family academy by immobiliare san pietro dove trovate tutti gli aggiornamenti sugli eventi che organizziamo volevo ricordare che questa sera siamo online appunto anche su su family academy e anche sul portale di bambini e genitori che è un'associazione nata da genitori per aiutare altri genitori sostenendoli anche con l'aiuto di psicologi e altri professionisti a questo punto io direi nicoletta che passo la parola a te controlliamo un attimo non vedo dei commenti però se si vede si sente bene se mi dai un attimo prima di farti iniziare per evitare di interromperti controllo io su facebook se la diretta è partita vediamo un attimo io intanto saluto paola buonasera cristina teseccia esatto ciao paola vediamo siamo online perfetto sì sì ci siamo ci siamo benissimo ti passo la parola allora nicoletta buona visione a tutti grazie grazie di nuovo a family academy per questa opportunità che mi ha concesso anche questa volta spero di non annoiarvi e di avervi presenti fino alla fine e un saluto particolare a paola che anche se è andata in pensione è sempre nel nel nostro cuore allora la presentazione di questa sera parla sempre di lavoro a maglia che è la mia passione unita sempre a un discorso legato alla salute che fondamentalmente è il mio lavoro di base perché ho voluto eh chiamare questa serata dandole questo titolo che è lavoro a maglia superfood per la nostra mente e il nostro corpo perché questo termine superfood in questi ultimi anni si sta vedendo in giro tantissimo è un una definizione una descrizione che eh sentiamo molto molto spesso e per quello che riguarda la descrizione sulla treccani è così definito prodotto alimentare considerato ricco di nutrienti e capace di apportare beneficio alla salute se integrato in una dieta bilanciata eh bene che cosa vuol dire vuol dire che è un super cibo un qualche cosa ehm vi chiedo scusa un attimo tolgo una cosa perché eh ecco mi distrae qua così ehm un un super cibo che cos'è è un qualche cosa che non è soltanto un un normale cibo quindi non lo so mangio la cioccolata per dire ma al suo interno sono contenute anche eh delle altre sostanze che possono essere dei eh minerali delle vitamine piuttosto che che altre cose che rendono questo cibo qualcosa di particolarmente interessante ehm ci sono moltissime definizioni in questi ultimi anni io ho scelto quella della treccani perché ho trovato che fosse quella diciamo un pochino più neutra ma a questo punto la domanda immediata è sì ok va bene superfood lo mangio mi fa del bene ma la maglia mica la mangiamo è vero la maglia non la mangiamo però è anche vero che se noi allarghiamo il concetto di food e quindi di cibo noi non ci nutriamo soltanto di cibo noi nutriamo anche il nostro corpo il nostro spirito la nostra mente e eh dobbiamo nutrire anche delle altre parti di noi che non sono soltanto l'aspetto legato appunto al nostro corpo fisico e materiale e secondo me e un po' la proposta di questa sera la maglia fa proprio tutto questo io vorrei eh sdoganare un po' il concetto della ehm del lavoro a maglia come semplicemente un passatempo perché se noi lo consideriamo così è un po' una cosina ma sì dai non so cosa fare lavoro un pochino a maglia in realtà non solo c'è un'industria dietro che in questi anni è molto cresciuta che dà da vivere a tanta gente ma ehm credo che il nostro modo di lavorare a maglia possa veramente fare la differenza e far diventare questo passatempo qualcosa di più è iniziato non come un passatempo perché nella storia lavoro a maglia è stata una necessità durante la guerra in modo particolare nei tempi antichi ancora di più poi è diventato un po' anche una moda e negli ultimi anni sicuramente è molto di moda ma eh se avete visto le conferenze precedenti o anche vedremo questa sera ha sicuramente anche delle altre caratteristiche degli aspetti più scientifici abbiamo già parlato eh le volte precedenti quindi ciò che riguarda la produzione di ormoni ciò che riguarda l'attivazione di alcuni aspetti neurologici io questa sera vorrei parlarvi un pochino più nella pratica cioè vorrei portarvi poco alla volta a vedere come una serie di cose che chi lavora maglia fa in maniera spontanea senza neanche sapere e pensare a che cosa sta facendo sono in realtà appunto questo superfood di cui vi parlavo prima una delle prime cose di cui vi vorrei parlare è uno dei nostri sensi il tatto il tatto è uno dei primi sensi che da piccolini cominciamo ad allenare cominciando a toccare un pochino di qua e di là sappiamo tutti benissimo come eh il tatto sia importante ovviamente come tutti gli altri sensi e ci fornisce la possibilità appunto attraverso il contatto di avere delle informazioni delle impressioni sul mondo esterno è ovvio che se io eh come dire tocco una superficie liscia piuttosto che una superficie rugosa una superficie come può essere della carta vetrata oppure un velluto l'impressione che ne riceverò sarà molto diversa sia l'informazione su di cosa è fatto magari quel tavolo o quella coperta su cui mi sono appoggiata ma anche l'informazione in termini di piacevolezza non per niente vi ho messo l'immagine di un tappetino di quelli proprio da bambini che sono questi tappetini sensoriali dove ci sono tessuti di diverso genere e i bimbi cominciano fin da piccoli ad apprezzare le differenze perché parliamo del tatto perché la lana sicuramente è uno dei materiali che più si presta la lana e i filati a essere appunto toccato maneggiato ad avere un contatto se io vi faccio vedere due ehm matasse diverse ad esempio come queste eh abbiamo in un caso una matassa ehm di un filato adesso lasciamo stare la marca eccolo qua che è un filato molto grezzo un filato molto bello da lavorare che dà grande soddisfazione ma che magari per qualcuno a pelle si sente un pochino come ruvido questo filato invece che è un misto lana merino sottilissima e seta ecco qui ve lo faccio vedere è sicuramente un filato che anche solo a toccarlo o a metterselo contro il viso dà tutta un'altra sensazione quindi avete già ehm capito da questa piccola immagine che vi ho fornito adesso come il tatto eh possa essere estremamente eh come dire eh un qualcosa che è la porta eh per un mondo di eh filati nel nel mio discorso di questa sera che possono essere più o meno piacevoli a seconda di com'è fatto ognuno di noi il mio consiglio quando si lavora maglia e si lavorano diversi filati è quello di farlo sempre anche eh per almeno un attimo non a lungo anche occhi chiusi perché in questo modo la parte non solo dell'informazione eh caldo freddo liscio ruvido rugoso eccetera ma anche la parte emotiva ha il suo spazio ed è particolarmente interessante stiamo attenti che poi dopo di questo vi riparlerò vi ho citato un attimo fa eh delle il discorso delle fibre allora la lana sicuramente è una delle fibre che si presta di più rispetto al discorso del tatto se poi ve la immaginate anche non filata ma proprio la lana ancora all'inizio quando sono dei batuffoloni di lana potete già da solo immaginarvi come possa essere piacevole tra le fibre animali la lana l'alpaca il cashmere la vigogna sono tutte fibre con delle caratteristiche specifiche eh legate al fatto di essere il vello di un animale quindi di dover proteggere l'animale tutelare l'animale rispetto al caldo al freddo alla pioggia allo sporco al cambio di temperatura eccetera queste fibre hanno tutte una capacità distensiva eh molto diversa una capacità elastica molto diversa ad esempio dalle fibre vegetali e ehm queste fibre sono anche estremamente studiate dalla industria tessile perché possiedono appunto alcune caratteristiche specifiche termoregolatorie in modo particolare e di elasticità che sono estremamente interessanti e si cerca di riprodurre cosa che invece le fibre vegetali non hanno le fibre vegetali in modo particolare noi utilizziamo il cotone il lino e la canapa ne esistono anche delle altre negli ultimi anni l'ortica il bambù che sta andando moltissimo eccetera sicuramente sono molto interessanti da un punto di vista eh ecologico e ambientale quindi anche rispetto economicamente sono anche molto meno eh costose possono essere interessanti per tutte le persone vegane che non vogliono utilizzare neanche addosso delle fibre di tipo animale e ehm sono fibre diverse sicuramente ma entrambe al tatto possono essere estremamente piacevoli dipende ovviamente anche da come vengono lavorate ricordiamoci sempre che l'impatto ambientale delle fibre eh non è solo nella loro produzione ma anche nello smaltimento qualche settimana fa mi è capitato di vedere una puntata di report io eh non sapevo che al di là di tutto il problema della microplastica di cui parleremo tra un attimo c'è anche questo enorme problema di smaltimento di abbigliamento che viene fatto soprattutto nei paesi africani dove ci sono queste montagne di rifiuti tessili eh il cui riciclo e la cui eh elaborazione diciamo è estremamente complessa nella diapositiva vi ho scritto di acrilico non ne parlo perché non è in questo momento un tipo di filato che mi interessa per il tipo di lavoro che vi voglio presentare in questa diapositiva vi metto una fotografia è una fotografia datata perché questo è l'equipaggio di luna rossa di anni fa e l'equipaggio di luna rossa vestiva e credo ancora anche con le nuove divise che a quel che ho capito avranno dei colori differenti eh vestiva in lana merino quindi il discorso del ma sì la lana va bene se stiamo al freddo se andiamo in montagna se andiamo a sciare già negli uomini di luna rossa veniva sfatato perché una lana merino in questo caso molto sottile aveva delle caratteristiche termiche sostanzialmente talmente importanti da farlo diventare un capo tecnico ehm altre situazioni dove non ci aspetteremmo di vedere usare la lana ma che invece vediamo ad esempio sono i gondolieri di Venezia la maggior parte dei gondolieri di Venezia veste in lana merino così come vi ho portato un disegno degli uomini in blu del deserto del Sara qual è la caratteristica fondamentale della lana la capacità come ho detto prima di regolazione della temperatura e la capacità di non assorbire gli odori per cui se non in situazioni particolari i lavaggi che richiede non sono così frequenti come invece avviene in altri tessuti vi ho accennato prima il discorso delle microplastiche le microplastiche sappiamo tutti che stanno diventando un problema sia le plastiche queste ehm isole di plastica che ci sono in mezzo al mare e che si stanno cercando di ridurre faticosamente questa immagine la vedete con una lente di ingrandimento perché dovete immaginarvi che le microplastiche sono in realtà molto più piccole di quelle che vedete qui le microplastiche abbiamo scoperto che sono anche in gran parte rilasciate nel lavaggio in lavatrice dei capi eh che contengono appunto delle fibre di tipo sintetico iniziano a essere venduti dei filtri appositi da poter applicare alla lavatrice per ridurre la loro quantità ma soprattutto nei primi lavaggi se abbiamo dei capi di questo tipo vengono rilasciati in grande quantità poi negli scarichi facendo un po' di ricerca per la serata di oggi eh sono andata a cercare anche eh altri usi della lana e ho trovato una descrizione su wikipedia che mi ha fatto un po' sorridere e direi che ho colto in fallo wikipedia perché quando andavo a guardare gli utilizzi della lana diceva la lana è usata principalmente come fibra tessile nella fabbricazione di vestiario di coperte di tappeti tessuti per arredamento in bottiture non è impiegata né tessuti usati in ambito tecnico ed industriale secondo me in questo caso come anche in altri wikipedia sbaglia in ambito tecnico ve l'ho fatto vedere prima ad esempio appunto l'equipaggio di di luna rossa o i gondolieri e quella è sicuramente una situazione tecnica se vogliamo vedere anche una situazione di tipo industriale ci sono moltissimi pannelli adesso di ehm materiale isolante sia da un punto di vista termico che da un punto di vista acustico prodotti con gli scarti della lana poi proprio in questi giorni la carissima giulia di sibillana e dell'azienda agrituristica la rocca assieme ad agrivello ha messo in commercio questo pellet eh di concime praticamente derivato dalla lavorazione della lana e in questa diapositiva ci ho messo anche un'altra cosa che non c'entra niente con la definizione di wikipedia che vi dicevo prima ma che c'entra col fatto che la lana in realtà eh non dobbiamo vederla solo come un qualche cosa che possiamo utilizzare appunto per fare dei vestiti ma anche in situazioni non di tipo appunto mh legati al vestiario e non di tipo terapeutico e vi ho citato le scuole staineriane perché cito le scuole staineriane che saranno alla base di quello che vi di tipo dopo perché in queste scuole l'apprendimento è fatto sostanzialmente secondo i dettami di Rudolf Steiner il quale sosteneva che noi impariamo meglio se una cosa la possiamo praticare la possiamo provare la possiamo fare e quindi dove è possibile lui eh insegnava o proponeva di insegnare le cose attraverso la pratica per cui le scuole staineriane come molte scuole poi del nord Europa utilizzano il lavoro a maglia non solo come attività per imparare a fare delle cose manuali ma anche per allenare i processi di apprendimento in modo particolare per quello che riguarda la matematica la geometria la tridimensionalità e la spazialità perché se io devo fare una sciarpa che sostanzialmente è piatta sarà diversa dal fatto se devo fare ad esempio un maglione o un berretto quindi imparo a gestire e a formare appunto delle forme con più dimensioni e quindi a valutare anche le dimensioni appunto e lo spazio mi insegna anche a concentrarmi mi insegna delle regole e l'applicazione delle regole in questo caso le regole della maglia ma poi vedremo che possono essere anche regole matematiche e mi dà la possibilità una volta che ho imparato le basi di sviluppare anche dei processi creativi e i processi creativi nell'apprendimento sono veramente importantissimi perché comincio a lanciarmi comincio a provare a fare una cosa piuttosto che un'altra vedo se funziona se non funziona se sta in piedi se non sta in piedi se il berretto calza bene calza male il maglione sta stretto sta largo in questo modo io finisco col fare dei capi che mi metto addosso ma contemporaneamente alleno tutti questi processi logici matematici geometrici eccetera che molte volte non ci rendiamo neanche conto che stiamo allenando questa diapositiva perché ve l'ho messa perché una delle frasi che chi lavora maglia usa più spesso è sto contando e io non sapevo che ci avessero pure fatto delle magliette avevo visto delle tazze ma le magliette non lo sapevo allora non è che quando diciamo sto contando è perché stiamo facendo degli esercizi di matematica però stiamo contando quindi qualche cosa che ha a che fare in realtà con la matematica lo stiamo facendo e adesso vi faccio vedere anche un attimo come perché se partiamo dal concetto che in nel lavoro a maglia noi non facciamo come nel cucito dove tagliamo cioè disegniamo tagliamo e cuciamo i pezzi insieme ma dobbiamo dare una sagomatura al capo che stiamo facendo lavorandolo quindi facendo degli aumenti facendo delle diminuzioni facendo dei punti dove calo dei punti aumento dei punti e poi parleremo anche delle righe accorciate io sto sostanzialmente utilizzando delle regole e degli esercizi di matematica anche se non me ne rendo conto di questo io avevo già avuto sentore ci avevo già ragionato su anni fa poi ho incontrato alice liotto per un corso che mi piacque molto e lì la matematica era importante perché bisognava capire meglio come fare dei modelli a propria misura e mi sono accorta che quindi in un modo molto semplice non lo chiamiamo matematica così c'è meno antipatico però alla fine addizioni sottrazioni moltiplicazioni divisioni le facciamo più e più volte quando facciamo un progetto a maglia in che modo diciamo che se seguiamo un modello già fatto che si chiami pattern in inglese o che si chiami modello di solito seguiamo le indicazioni quindi calate tre punti caliamo tre punti aumentate cinque punti aumentiamo cinque punti cominciamo a esercitare un po di più le nostre capacità di matematica quando decidiamo di seguire sia un modello ma di modificare qualche cosa ad esempio voglio le maniche più lunghe oppure voglio che il maglione non mi arrivi in vita ma mi arrivi sui fianchi a questo punto io faccio delle modifiche semplici quindi già qui dovrò fare dei calcoli per quanto filato mi serve quante righe in più devo fare oppure lo voglio un pochino più largo più morbido sui fianchi quanti punti in più devo mettere già qui io faccio un passo in più con la matematica il terzo passaggio è sicuramente quello più impegnativo ed è quando decido di farmi un modello da sola che può essere all'inizio anche un modello molto semplice una sciarpa che può essere tutta dritta un cappellino posso decidere di fare una cosa semplice ma poi man mano che acquisisco esperienza posso decidere di farla un pochino più complessa per cui posso creare dei motivi decorativi dopo vi farò vedere alcune cose ovviamente dei motivi decorativi posso arrivare poi a fare una delle cose più complesse perché richiede delle misure più precise come sono dei capi da mettere come dei maglioni dei cardigan delle giacche eccetera che già avendo il giro umani che così via sono un po' più complesse e secondo voi tutto questo non richiede dei grandi calcoli matematici? Sì li chiede per forza perché dovete riuscire a modellare quello che state facendo e lo fate con i calcoli matematici che ho detto prima quindi riportandovi al titolo della conferenza quella del superfood direi che cominciamo già a vedere che effettivamente io penso di lavorare sulla maglia in realtà sto facendo un grande allenamento mentale perché devo allenare la vigilanza l'attenzione devo e io su questo sono bravissime invece a non non avercela la famosa nicole partiziona dopo ne parliamo un attimo devo fare dei calcoli e se faccio un modello complesso con anche dei trafori eccetera i calcoli ovviamente saranno maggiori devo fare delle scelte procedurali procedo in un modo piuttosto che in un altro a seconda del risultato che voglio ottenere devo continuamente controllare se il risultato che ottengo è corretto rispetto a quello che volevo se ho fatto degli errori o non li ho fatti magari nel tentativo di non accorgermene venti righe dopo e dover disfare così tanto e di accorgermene invece per tempo tutto questo è un grossissimo lavoro di vigilanza e attenzione nella conferenza precedente che avevo fatto io avevo detto che quando ho avuto dei grossi problemi di memoria di vigilanza il lavorare a maglia mi era stato impossibile quasi all'inizio se non per dei lavori piccolissimi e molto molto semplici con l'andare del tempo la cosa per fortuna sta migliorando ma io sono la nicole pasticciona se qualcuno ha visto alcuni dei nostri post io sono quella che fa pasticci qui ve ne faccio vedere due ad esempio questa è una maglietta che è stata fatta con un filato in cotone a coste due due io avevo fatto il mio bel campione avevo fatto le prove tutte le misure pensavo di essere perfetta ho finito la maglietta e mi arrivava all'ombelico e io una maglietta all'ombelico non me la metto in questo momento quindi ho dovuto farne un altro pezzo e poi unire i due pezzi decidendo che invece di non farlo vedere ho fatto proprio vedere dopo vi faccio vedere il risultato finale ho fatto proprio vedere dove li congiungevo con questo filo trasparente un'altra situazione dove ho fatto un pasticcio è questa una maglia che ho finito qualche mese fa questo è il giro mani che io ho ripreso i punti la stilista diceva di fare delle degli aumenti in un certo modo io ero convinta di averli fatti così e invece poi si vedevano assolutamente i difetti e quindi non li ho fatti come gli aveva detto la stilista e ho disfatto e l'ho rifatto dopo meglio perché in quel modo lì non mi piaceva ma tutto questo è un enorme allenamento mentale un altro processo che è estremamente utile nella vita e nella maglia applichiamo di continuo sono i processi legati alla logica la logica è quel qualche cosa che noi sviluppiamo nel tempo crescendo iniziando a conoscere le cose è in realtà una serie di processi hanno a che fare con la logica ad esempio quando diciamo che una cosa è storta o è dritta poi possiamo decidere che vogliamo appositamente che so una spalla storta o un collo storto però sappiamo che rispetto a quella che sarebbe la visione che di solito una visione sempre che va a cercare il dritto e anche l'armonico una cosa storta l'occhio tende a vederla e a catturarla subito nel lavoro a maglia la logica si esprime in molti modi l'estetica e la funzione ci guidano molto l'estetica nel senso che deve essere una cosa che mi piace ma almeno a grandi linee mi piace magari la faccio per qualcuno e quello che vuole non mi interessa però almeno a grandi linee mi piace la funzione perché se io faccio delle tasche per dire se ci voglio mettere dentro le mani farò delle tasche più grandi piuttosto che se devono essere soltanto decorative un'altra cosa importante è storto o dritto perché io posso decidere che faccio un collo storto ma ad esempio le spalle di una manica se una più su una più giù chiaramente non sono venute molto bene e in questo c'è molto anche il concetto dell'armonico e disarmonico che è una cosa che noi catturiamo immediatamente con l'occhio c'è anche il discorso del simmetrico che ha molto a a che fare con lo storto e col dritto e questo lo vediamo appunto quando mettiamo che so i bottoni le asole e gli scalfi delle maniche come vi dicevo prima anche qui noi pensiamo di fare un semplice maglione di mettere le asole per mettere dei bottoni o di scegliere uno scialle con una determinata apertura in realtà se ci guardiamo intorno in modo particolare nella natura le forme armoniche quando guardiamo come sono disposti i petali ad esempio su un fiore o le foglie sono diffuse praticamente dappertutto e seguono delle leggi senza che noi dobbiamo sapere per forza cos'è la successione di fibonacci o la sezione aurea se io vi porto il disegno di una conchiglia come vi ho messo qui vedete che la forma è una forma armonica segue delle leggi matematiche geometriche ben precise che noi a occhio nudo già possiamo intuire anche senza fare i calcoli che sono i calcoli che vedete lì che appartengono appunto alla successione di fibonacci quando facciamo qualcosa a maglia tendiamo sempre a cercare un'espressione che sia armonica quanto meno può essere anche simmetrica ma armonica sì prima quando vi dicevo delle capacità di allenamento della mente con il lavoro a maglia vi ho parlato oltre che della matematica della geometria che cosa meglio degli scialli vi parla della geometria qui vi ho portato alcune immagini questi ad esempio sono tutta una serie di scialli in quella di centro triangolari che si possono fare a maglia quelli più classici e quelli più moderni vediamo degli scialli circolari o semi circolari con o senza l'incavo dell'appoggio sul collo e nelle immagini di sinistra vediamo delle immagini invece completamente delle forme completamente differenti con cui possiamo fare altri oggetti per la casa e queste sono tutte cose che hanno a che fare con lo sviluppo di concetti geometrici quindi quando facciamo una cosa del genere non ce ne siamo resi conto ma in realtà stiamo studiando la geometria una cosa che mi è accaduta in questi giorni e che mi accade abbastanza spesso in realtà è che preparando la conferenza sfogliando cose qua e là ho trovato una un post di alice twain che recitava un articolo di sarah sesti che parla di questa donna che si chiama daina taimina che è una ricercatrice di matematica di origine dei paesi dell'est non mi ricordo più se della bielorussia o da quelle parti che si è trasferita negli stati uniti un tot di anni fa per seguire un filone specifico di matematica e per lavorare su concetti su cui lavorava lei in matematica facevano dei modellini in carta questi modellini in carta si sono rivelati assolutamente inconsistenti e non in grado di essere manipolati a sufficienza e lei ha deciso di farli a maglia all'inizio le andava bene la maglia poi ha capito che non andava benissimo neanche quello e adesso li fa all'uncinetto e questa è un'immagine in cui vedete sia ne ha uno in mano uno dietro di questi modelli che non sono dei modelli per fare un lampadario per decorare qualche cosa ma sono dei modelli di alcuni come dire concetti matematici a questo punto io devo introdurre per forza una delle cose odiate quindi il famoso campione quando io parlo del campione c'è sempre un moto a tutti fa assolutamente vomitare in realtà fare il campione è necessario per applicare poi quei concetti che vi ho detto prima un campione eh Sara per favore se mi inquadri vediamo allora noi come tempo di lana abbiamo fatto il campione di tutti i nostri filati qui ve ne faccio vedere uno adesso al di là del nome del filato che non ci interessa il campione è fatto da una parte eh con la maglia rasata una parte che ha un traforo e una parte con un disegno di solito delle trecce che dia un pochino di rilievo proprio per vedere la mano di questo filato come cade per vedere con la mia mano però quanti punti servono per fare i 10 centimetri e attenzione che anche se ogni campione è misurato in 10 per 10 il campione va sempre fatto più grande perché i bordi tirano quindi va calcolato poi 10 centimetri in centro se quando devo fare una maglia devo fare una lavorazione particolare il campione andrebbe fatto proprio con ehm il punto che io dovrò lavorare perché è necessario fare il campione perché devo assaggiare l'elasticità del filato che è molto maggiore in un filato dicevamo animale piuttosto che in un filato vegetale e se devo mettere più fili insieme cambia ancora ancora una volta devo vedere il numero di ferri che mi consenta di avere lo stesso campione cioè lo stesso numero di punti nei 10 centimetri che mi diceva la persona che mi ha eh di cui sto facendo il pattern oppure se voglio deciderne uno io devo capire quanti punti mi servono per 10 centimetri per poi moltiplicarlo per i centimetri che mi servono e tutto questo serve per vedere sostanzialmente questa cosa che si chiama tensione quando il filo fa il giro attorno al ferro io posso avere una mano che tira di più quindi stretta oppure più molle questo cambia il numero di punti che ci sono in 10 centimetri ma cambia anche il tessuto che viene fuori perché ovviamente se io voglio fare una giacchetta oppure voglio fare uno scialle sciantoso io vorrò un tessuto che sia più compatto o meno compatto tutti questi campioni vengono fatti proprio nell'ottica di sapere esattamente quanti punti mi servono per un campioncino piccolo di 10 centimetri per poi poterlo replicare in grande è necessario non solo fare il campione ma bagnarlo il campione perché dopo lavato il filato di solito si apre si gonfia cambia un pochino e quindi è solo lì che io lo posso andare a misurare ricordiamoci poi anche un'altra cosa che se io faccio un campioncino e poi per dire faccio un vestitino per una bambola più o meno si assomigliano ma se io faccio un campioncino e poi devo fare un maglione per mio marito che è grande grosso il peso che avrà quella lana o quel filato sarà completamente diverso da quello che io ho avuto nel campione e quindi potrei trovarmi delle sorprese soprattutto con alcuni filati che sono molto molto di moda ma che tendono un po a smollare noi diciamo un po così e che quindi uno parte con una misura poi la prima volta che lo lava si trova con 10 centimetri in più ma anche questo si impara con l'esperienza qui vi ho messo altri due campioni nostri vedete che sono fatti sempre più o meno nello stesso modo ci si appoggia poi un centimetro in orizzontale in verticale e si misurano quanti punti e quante righe sono necessari e in questo caso ad esempio 24 maglie per 43 righe per avere un campione di 10 per 10 a proposito della nicole pasticciona che non sta concentrata guardate come di solito verso la terza riga quarta riga nel motivo traforato io ho fatto un pasticcio e vabbè pazienza se il mio campione ha la stessa tensione va tutto bene ma a me questo adesso non interessa per parlare del famoso superfood per la mente quando è che mi interessa quando la mia tensione viene diversa perché io dovrò fare dei calcoli la prima cosa che faccio è provare a cambiare il ferro se la differenza è di uno o due punti io posso prendere un ferro più grande più piccolo ma se io voglio usare a tutti i costi quel filato e la mia mano è quella lì oppure se voglio farmi un mio modello ho deciso che voglio farmi il mio berretto senza seguire nessun modello che cosa devo fare delle semplicissime proporzioni se io ho un berretto come questo ad esempio che ho fatto quest'inverno e io ho deciso che ho nella mia circonferenza 54 centimetri facciamo finta e io avevo 15 punti ogni 10 centimetri ovviamente dovrò se 10 centimetri o 10 punti o 15 punti o quello che è farò una moltiplicazione o una proporzione decidete voi come vi viene più semplice per poi fare il calcolo è chiaro che nel caso di un berretto bisogna che non sia troppo largo perché è meglio che sia un pochino più stretto perché sennò poi si sfila facilmente ma il concetto è quello quindi anche facendo il berretto io sto facendo della matematica senza paura mi viene da dire se noi non la chiamiamo matematica e diciamo solo che stiamo prendendo le misure e stiamo facendo qualche cosa è molto più semplice e stiamo comunque continuando ad allenare la nostra testa a questo punto a me viene da dire evviva la matematica senza avere paura con gradualità si comincia poco alla volta poi si fanno modelli più sempli sempre più sempre più complessi ed evviva ovviamente anche il campione quando ci troviamo di fronte ad esempio a uno schema come questo che ho preso da internet che è uno schema per questi eh maglioni adesso tanto di moda che partono dall'alto e scendono in basso quindi top down pieni di numeri di proporzioni da fare anche qui niente panico cominciate da quelli più semplici da quelli che vengono un po definiti come una ricetta su come fare e poco alla volta andate avanti perché alla fine se io ho una spalla di 24 maglie come lo vedo qui e la voglio andare a chiudere poco alla volta e decido che la chiudo in quattro parti semplicemente farò 24 diviso 4 che fa 6 oppure qui devo fare uno scollo e chiuderò un po di maglie in centro e poi un pochino alla volta lungo il bordo sono soltanto queste le lavorazioni che richiedono dei calcoli un pochino più complessi ma anche questi ci tengono allenati anche perché man mano che cominciate a lavorare lavorate da sole o con qualcun altro ci saranno sicuramente un sacco di trucchi che vi verranno insegnati per poter semplificare anche delle lavorazioni che sembrano un po più complicate come lo scalfo manica che probabilmente assieme allo scollo è una di quelle cose che se lo faccio troppo stretto o troppo profondo la manica ancora peggio sono quelle che vengono un po peggio quindi magari prima con una cosa più semplice poi quella ma chiunque lavori modelli un po più complicati sta assolutamente utilizzando il suo cervello quindi cosa fate allenate il cervello che è un qualcosa che abbiamo già visto l'altra volta si fa ovunque ci siano centri riabilitativi educativi occupazionali che uniscono un'attività manuale a un'attività mentale vi ricordo che ad esempio nei paesi del nord che avevano utilizzato i tablet a scuola per alcuni anni senza più leggere scusate senza più scrivere con la penna li hanno tolti da quest'anno e l'anno prossimo in altri stati perché si è visto che l'apprendimento è molto mediato anche dalla scrittura e quindi dall'uso della mano quindi ancora una volta il fare qualcosa nella pratica e con le mani mi aiuta anche ad apprendere. Passiamo a un'altra cosa questo qui è lo schema e adesso vi faccio vedere Sara velocissima mi ha visto prendere una cosa di fianco questa è una copertina che io ho fatto poco tempo fa per un anzi questa è quella precedente quell'altra l'ho già regalata per un bebè quindi questa è la copertina questa copertina si chiama diamond baby blanket purtroppo è un modello a pagamento adesso quando l'ho preso io era gratuito e speravo lo fosse anche ora ma non lo è ma l'ho preso solo per farvi un esempio perché ogni tanto qualcuno mi chiede ma è più semplice lavorare seguendo la descrizione o seguendo lo schema la risposta io non ce l'ho però c'ho la risposta del fatto che sia che seguiate questo sia che seguiate lo schema sia la parte descrittiva state allenando lo stesso il cervello perché questo è uno schema dove ci sono dei simboli grafici e voi trovate una leggenda a parte che vi dice come procede il vostro lavoro a fianco e questo di solito accade in tutti i modelli descritti e fatti bene c'è la descrizione riga per riga io quale uso tutti e due perché lo schema mi serve moltissimo per vedere come procede il disegno per capire che punto c'è prima o c'è dopo per avere un'idea se devo disfare di che cosa mi devo aspettare che ci sia sotto però quando ho che so 14 punti dritti o rovesci da fare in fila a me mettermi a contare tutti i quadratini mi si incrociano un po gli occhi allora in quel caso preferisco andare nella linea corrispondente di quello descrittivo e trovare lì la descrizione in questa diapositiva vedete una descrizione con delle sigle sono le sigle in inglese k8 vuol dire knit 8 quindi 8 punti dritti p non so dove c'è lì un p 14 vuol dire purl 14 quindi il punto a rovescio e anche l'inglese è un allenamento perché un sacco di gente che l'inglese non lo conosce non lo sa parlare si è invece avvicinata ai modelli in inglese che sono oggettivamente fatti molto meglio perché l'inglese è molto più sintetico molto più conciso e riesce a descrivere delle cose in molto meno spazio semplicemente imparando tenendo a fianco per un po di tempo una leggenda di quali sono i sinonimi tra l'inglese e l'italiano è chiaro che se c'è una parte descrittiva in cui vi racconta il collo questo e quello quell'altro si fa fatica ma per seguire invece soltanto la descrizione di quello che state facendo molte persone hanno allenato e anche persone di una certa età che avevano detto no io l'inglese non lo so non ci riesco eccetera eccetera invece alla fine con un po di pazienza un po di calma ci sono riuscite e quindi sapete già che cosa vi voglio dire bene in tutto questo discorso dell'apprendimento torniamo però un attimo indietro al tatto di cui vi ho parlato prima perché quando noi lavoriamo a maglia non stiamo solo contando facendo cose geometriche spaziali di attenzione eccetera ma stiamo usando anche degli altri sensi uno di questi sensi è il tatto di cui vi ho detto prima sicuramente la composizione di una fibra fa la differenza il rispetto dell'ambiente è finito qua ma in realtà doveva essere molto punto della diapositiva il fatto che un filato sia scivoloso sia pelucchioso sia secco sia morbido sia ben definito contenga più fibre miscelate o no ci dà una sensazione diversa al tatto e per quello che io chiamo nutrimento per il cuore scusate ma comincio a tossire è molto importante anche il discorso del colore e adesso ci arriviamo in base a cosa scegliamo il lavoro che dobbiamo fare allora tutti tutti e tutte quelle che lavorano la maglia hanno di solito almeno due o tre lavori contemporaneamente sui ferri che sono lasciati lì in un cesto sul divano sulla poltrona da qualche parte in attesa che mi venga la voglia di finirlo che capisco come fare una certa cosa stanno lì e aspettano vengono chiamati chiamati work in progress oppure ufo anche nel senso di prodotti non un finished object e quindi prodotti non finiti io personalmente come scelgo scelgo sicuramente se c'è un lavoro che devo finire perché lo devo regalare ok quello lo prendo e cerco di finirlo ma molte volte scelgo in base al tatto e al colore cioè che cosa faccio ci sono delle volte che io sono particolarmente stressata tirata affaticata e ho bisogno di una fibra che mi restituisca qualcosa di amorevole qualcosa di morbido per cui mi vado a scegliere un alpaca ad esempio se ce l'ho o magari anche qualcosino in cashmere piccolino che mi dia molto molta coccola ci sono momenti in cui sono più carica ho bisogno di scaricare magari cerco delle fibre che siano più consistenti più dure anche più grezze delle volte quindi scelgo molte volte in base al tatto molte volte scelgo anche in base al colore al di là del fatto che io non riesco quasi più a utilizzare i colori molto scuri perché non li vedo a seconda dell'umore e anche di questo abbiamo parlato l'altra volta posso scegliere di lavorare con un colore piuttosto che con un altro perché sento che mi restituisce benessere il lavorare che ne so con un colore solare piuttosto che con un bianco o con un grigio che sicuramente lavoro ma magari in un altro momento ci sono delle volte che poi devo scegliere anche in base al fatto non so vado in macchina vado in una sala d'attesa ok prenderò un lavoro piccolino ma quando posso scegliere scelgo anche in base al colore per quello che riguarda il colore vorrei dire una cosa al di là delle dinamiche del colore quindi i colori che si combinano bene tra di loro i colori opposti eccetera le teorie del colore abbiamo i libri di ghette abbiamo l'armocromia di cui si è parlato tanto ultimamente a me viene da dire osate abbinate i colori come vi pare giocate contro tendenza anni fa il rosso e il rosa messi assieme erano un pugno in un occhio adesso li vedete dappertutto mettete assieme i colori che vi piacciono a voi osate giocate se vi piace bene se non vi piace cambiate sicuramente l'industria adesso vi aiuta perché ci sono ditte che hanno nei colori solidi più di 100 sfumature diverse ci sono colori che sfumano da soli in un unico gomitolo ci sono colori rigati ci sono colori spruzzati che su un fondo di base di un colore ci hanno sopra degli spruzzi di altri colori ci sono tinture industriali tinture naturali guardate in questa diapositiva che ho fatto l'anno scorso a colonia alla fiera del del tessile questo ad esempio è lo stesso colore con tutti questi filati diversi e da tutte sfumature differenti usate la fantasia fate dei capi unici che saranno soltanto vostri dove sia i colori che le finiture perché spesso una bella finitura è in grado di cambiare completamente il risultato possono veramente allenare la fantasia e allenare la fantasia è di nuovo un modo per allenare il nostro cervello in questa immagine vi ho portato alcuni esempi di quello che vi stavo dicendo allora questa è la famosa maglietta fatta con questo cotone autorigante che mi sarebbe arrivata qua e non mi piaceva dove ho aggiunto il bordino in fondo ho tirato in dentro la pancia questo è un bellissimo filato molto morbido che parte da un colore e poco alla volta arriva un altro questa era una diapositiva fatta per il rosso magente al colore dell'anno scorso con una serie di filati che rappresentano questo colore e vedete come possono essere diversi tra di loro e questo era una uno scialle fatto con delle matassine di quattro colori similari a cui ho intervallato un altro colore erano sui marroni e io ho intervallato questo colore melanzana per dare un pochino lo stacco perché mi piaceva molto piuttosto che il nero che era quello che era stato proposto quindi coi colori potete assolutamente giocare lanciarvi su quello che vi piace non vi piace a chi lo regalate potete decidere che volete dei colori decisi o dei colori sfumati che potete comprare già fatto che potete fare voi comprando dei gomitoli che possano essere in scala di colore potete usare dei contrasti oppure fare delle cose tono su tono secondo me poter ogni tanto lavorare secondo il nostro stato d'animo è estremamente importante e io spesso veramente una lancia a favore del colore qui ho messo questa diapositiva con due completi da uomo da noi ad esempio un completo color vinaccia come questo lo vedreste al massimo a un matrimonio ma sembra invece splendido io amo i colori neutri sicuramente sono preziosi dobbiamo averceli tutti però un po più di colore nella nostra vita secondo me è importante se guardate a paesi che stanno meno attenti al look i paesi del nord europa sud america c'è un sacco di colore secondo me portano veramente un grande benessere due parole anche sui ferri perché i ferri sono quelli adesso io qua ho messo una diapositiva dei ferri dritti ma si usano tantissimo i circolari ultimamente anche la piacevolezza dei ferri al di là del fatto che possa avere ferri più adatti per un certo filato o meno perché scivolano di più scivolano di meno però avere in mano dei ferri di legno dei ferri di acciaio dei ferri di plastica dei ferri di carbonio può fare un effetto diverso non solo perché ce li ho in mano ma perché può cambiare anche il suono e la temperatura e quindi anche lì delle volte ci sono persone che dicono io d'inverno ad esempio i ferri d'acciaio non li voglio utilizzare preferisco quelli di legno quindi anche i ferri sono una cosa importante di cui tenere conto sempre nel processo creativo e quindi nel processo di allenamento mentale avevamo citato la fantasia quando cominciamo a essere abbastanza competenti da poter utilizzare la fantasia quella è veramente uno dei segnali che quella materia ce l'abbiamo abbastanza in mano vi faccio due esempi questa è una manica di un maglioncino che è ancora lì perché è venuto alla fine e non mi è piaciuto come mi sta addosso devo capire come lo trasformo ma non mi piaceva finire questo maglioncino con solo la manica rossa quindi mi hanno suggerito di fare queste righe e ho scoperto che sono molto di moda ma l'ho scoperto solo dopo oppure questo invece è un maglione che ho fatto anni fa ho comprato nove gomitoli di un colore e uno di un altro ma senza saperlo io pensavo che fossero tutti uguali a quel punto o mi disperavo perché non avevo abbastanza filato o ho fatto questi due piccoli intarsi di un altro colore ho creato un maglione completamente diverso da tutti gli altri che ci sono in circolazione anche stato apprezzato devo dire e così facendo così come creando delle tasche cambiando delle chiusure cambiando con dei piccoli decori sul collo piuttosto che sullo sfondo facendo quindi delle rifiniture leggermente anche solo diverse potete ottenere qualcosa di molto particolare un altro punto che alleniamo lavorando a maglia è la concentrazione su questa io ne ho veramente tanto bisogno per questo che l'ho intitolata questa tiapostiva concentrazione aiutami tu c'è il classico lavoro da televisione ad esempio questo poncio che ho finito da poco dove praticamente si deve fare quasi tutto dritto e qua c'era soltanto un aumento nella costolatura centrale ci sono persone che lavorano senza guardare chiaro che dipenderà dal tipo di lavoro perché se avete molti tra fuori un po più difficile ci sono persone che lavorano camminando io assolutamente no mi inciamperei e sbaglierei il lavoro quindi proprio non posso permettermelo ci sono poi dei lavori che sono adatti ad esempio a situazioni rapide la sala d'attesa il treno non mi porterò certo dietro un lavoro a cinque colori per dire perché diventerebbe un delirio mi porto dietro un lavoro come può essere un lavoro piccolino ad esempio se qualcuno ci ha visto ultimamente io ho fatto vedere un po di tempo fa che sono andata a fare un mini weekend e nel mini weekend ho fatto questa soffi scarf quindi questa sciarpina piccolina lunga e stretta che devo ancora bagnare ma il concetto era proprio un lavoro molto semplice e molto molto veloce c'è una cosa però che secondo me dobbiamo tenere presente che io non vorrei passare come messaggio perché sarebbe un messaggio contrario a quello che vorrei dire che è siamo sicuri che dobbiamo sempre fare qualcos'altro mentre lavoriamo a maglia ed essere sempre multitasking io non voglio dire questo voglio dire che possiamo usare la maglia in molte situazioni per distrarci per allentare la tensione per far passare il tempo ma secondo me la cosa più bella è quando io mi metto lì e lavoro solo a maglia e mi gusto ogni momento di quello che sto facendo nel lavorare a maglia quindi non ho bisogno di tranquillizzarmi di distrarmi eccetera ma posso solo fare una cosa piacevole ecco quello secondo me è il momento più prezioso di tutti qualcuno mi chiede se è necessario essere veloci questa è la donna più veloce al mondo con lavoro a maglia e la risposta è no per nutrire lo spirito e la mente no per finire più in fretta può essere utile ma per nutrirci assolutamente no e tornando ai nostri sensi parliamo un attimo anche del profumo molti filati hanno un profumo alcuni hanno un profumo di lanolina che per qualcuno è una puzza per me è un profumo alcuni tinti con tinture naturali hanno un minimo di profumo ma solo alcuni vegetali lasciano un odore alcuni vengono profumati proprio dai produttori alcuni filati vegetali non il cotone di solito ma altri un pochino più grezzi fatti con l'ortica o cose così non hanno l'odore dell'ortica per dire o del banano ma hanno un odore un po' di verde qua di vegetale se vengono riscaldati o maneggiati però molto molto poco qui io vorrei aprire una piccola parentesi che non ha tanto a che fare con il superfood ma in realtà secondo me sì perché eh molto spesso mi viene detto sì ok ma i filati di cui eh tu parli in qualche modo sono tutti filati estremamente cari in realtà non è così ci sono sicuramente dei filati di di grande qualità o di grande pregio molto particolari o che strizzano l'occhio al costo e costano molto ma ci sono anche filati di grande qualità che hanno un prezzo assolutamente corretto e coerente e io vorrei ehm chiedere se la la qualità che cerchiamo il rispetto degli animali di cui tanto parliamo il rispetto degli allevatori dei filatori dei tintori può essere un qualcosa che noi speriamo di pagare sotto costo secondo me questo non è possibile e non è giusto in realtà in questi anni ho incontrato moltissime persone persone che allevano ad esempio i loro animali e poi fanno la lana persone che tingono eh persone che fanno anche prodotti come dei cappelli e qui ad esempio trovate i loro nomi vi ho portato i loro sorrisi il la passione eh la competenza la capacità l'attenzione alla qualità è molto molto alta e credo che sia assolutamente necessario restituire a a queste persone quello che è giusto quello che noi lavoriamo non solo lo lavoriamo e lo tocchiamo e lo respiriamo ma lo respiriamo anche quando lo indossiamo lo indossa anche il nostro corpo la nostra pelle in qualche modo e quindi se è qualcosa di qualità e io non parlo solo delle persone malate a cui quindi devo dare o dei bambini dei neonati a cui quindi devo dare dei filati particolari ma parlo per tutti credo che sia importante che noi utilizziamo veramente dei filati qualitativamente buoni non è necessario che sia del cashmere o della seta o dello yak può essere anche una buona lana un buon alpaca ehm fatto bene e ci sono molti modi dove io posso in cui io posso risparmiare usando le situazioni sui saldi nelle fine serie nelle fine colore in alcune fiere alcune volte le persone vendono direttamente quindi costano meno secondo me il concetto di ehm dello slow food lo slogan dello slow food buono pulito e giusto è estremamente importante io in questa situazione lo tradurrei in sano pulito e giusto e mi piacerebbe uscire dall'ottica dell'usa e getta non solo perché è una cosa in cui credo oggettivamente credo che sia importante dare valore a quello che facciamo al tempo che ci mettiamo all'intenzione che ci mettiamo allo studio che ci mettiamo perché è dare un valore a tutti i processi che abbiamo messo in atto tra cui i processi di apprendimento che ci hanno portato a fare quel lavoro lì quindi fare un capo per poi gettarlo l'anno dopo ad esempio con tutta la fatica che abbiamo fatto secondo me è un po' un controsenso tenete conto che il filato di qualità si può anche recuperare io una cosa di tempo fa lo posso disfare e eh rimettere in sesto il filato ci sono molti modi per farlo e poi fare qualche cos'altro vi faccio un banalissimo esempio che poi vi faccio vedere meglio questo scialle è fatto con un filato sicuramente abbastanza prezioso è stato fatto più di dieci anni fa ed è ancora perfetto è stato indossato e lavato più e più volte a questo punto quindi noi che cosa stiamo facendo in realtà stiamo solo lavorando a maglia secondo me no stiamo lavorando a maglia ma allo stesso tempo ci concentriamo e facciamo una sorta di meditazione abbiamo detto ma aggiungiamo il fatto che stiamo anche allenando i nostri sensi la nostra logica la la nostra attenzione la nostra concentrazione le nostre capacità matematiche e geometriche e secondo me o almeno io personalmente un pochino quando faccio questo sogno anche sogno che un mondo fatto di maglia o fatto con la maglia o fatto con i criteri che ci sono dietro alla maglia possa essere un mondo un po' migliore forse sono sicuramente un pochino troppo idealista però questo è un pensiero che mi accompagna avrei voluto parlarvi anche del volontariato e anche darvi qualche altro qualche suggerimento rispetto a in che modo è un superfood per il corpo ma vedendo l'ora direi che rimando questa cosa della superfood per il corpo a un'altra volta e chiedo a Sara se è d'accordo passerei alla parte finale in cui faccio vedere alcuni esempi di lavori che sono in relazione a quello di cui abbiamo parlato fino adesso certamente Nicoletta figurati eccomi qua allora siamo alle ultime diapositive perché vi vorrei far vedere qualche suggerimento in tema con quello di cui abbiamo parlato allora la prima cosa che vi faccio vedere è questa questa è una piccola borsa estiva questa l'ha fatta Dana la mia socia è fatta in cotone ma si può fare anche in altre fibre che secondo me viene meglio con una fibra di tipo vegetale nella diapositiva e nelle dispensa che vi verrà data trovate il link è un modello gratuito di Drops Design attenzione che nella dispensa molte foto però saranno state tolte quelle dove ho dei dubbi rispetto al copyright eccetera ma i concetti ci sono tutti questo è per partire è un lavoro semplice semplice lo possiamo fare un po' più grande un po' più piccola con delle altre decorazioni eventualmente e qui il campione non è fondamentale perché se una borsa mi viene un po' più larga un po' più stretta un po' più alta un po' più bassa non succede niente è ben diverso rispetto invece a dei capi di abbigliamento un po' il concetto per dire della sciarpa che anche se un po' dista dalle misure classiche va assolutamente bene e quindi questo è il primo lavoro che vi propongo di Drops Design questa borsa dove ci si possono... adesso noi abbiamo messo dentro i gomitoli ma ci si può mettere dentro qualunque cosa il lavoro successivo che vi propongo da vedere è questo qua e di questo c'è un dettaglio che vi faccio vedere di cui adesso vi parlo un attimo tempo fa una ragazzina amica di famiglia mi chiede un gilet lei è una ragazzina abbastanza piccolina minuta, le prendo le misure inizio a farle questo gilet estivo con degli avanzi che avevo in casa di questo filato di cotone lino e quando sono arrivata quasi alla fine mi fa ma te l'avevo detto che lo volevo largo io come lo volevi largo? sì lo volevo largo, non lo volevo stretto, non lo largo a quel punto abbiamo un'altra allora necessità di quelle di cui avevo parlato prima rispetto alle nostre capacità diciamo mentali che è quello di inventarci delle soluzioni e la mia soluzione qual è stata? perché sarebbe stato troppo stretto quello di fare questa costolina in mezzo io ho preso un filato simile con un colore che secondo me stava abbastanza bene ho fatto una trecciolina e l'ho cucito ai bordi in questo modo ho guadagnato 5 cm per parte diciamo che lei si è accontentata lo voleva ancora più largo però si è accontentata ve lo faccio vedere anche dal vivo questo è il gilet, un gilet corto io ho fatto questo piccolo traforo sul davanti e qui sono riuscita a non sbagliare c'è sia sul davanti che sul dietro e come vi dicevo questi lati da tutte e due le parti io ho cucito questa parte centrale dove ho fatto questa treccia i lati erano anche stati rifiniti con un punto particolare perché volevo fare una cucitura diversa ma vabbè alla fine ci ho infilato in mezzo la treccia e quindi ho utilizzato la parte diciamo legata all'inventiva per poter adattare il progetto a quello che voleva lei un altro progetto di cui vi parlo è questo shale l'avete visto anche prima tra un attimo ve lo faccio rivedere ah ecco del progetto di prima non c'è un modello perché l'ho fatto così un po' a inventare inventandomelo sul momento questo invece è un modello gratuito su Ravery c'è sia la misura piccola che la misura grande è un progetto che aiuta nella concentrazione perché la maggior parte è fatto a maglia rasata con solo degli aumenti per iniziare a dare la forma circolare la parte invece che richiede molta concentrazione è la banda finale la striscia col motivo celtico che richiede maggiore attenzione mi è venuto da sorridere questo è lo shale questo è lo shale e vi faccio vedere la banda finale l'avevo messo storto eccolo qui questa è la banda sul fondo con i motivi celtici io all'epoca non facevo errori e vabbè adesso invecchio anch'io e la parte a maglia rasata ha solo alcune parti con appunto questa zona dove ci sono gli aumenti per dare la forma semicircolare anche questo è un modello gratuito l'ultimo modello di cui vi parlo sempre gratuito anche questo è un modello di un cappellino estivo che io volevo con la tesa infatti se guardate nella foto sono lì con il sole negli occhi è un modello di Schakenmeier fatto con un altro filato io ho deciso di farlo con questo qui perché richiede più concentrazione degli altri perché è un modello semplice e veloce ma ha tutti questi punti traforati per cui richiede una maggiore concentrazione perché c'è il traforo e la treccia qui sicuramente degli errori io li ho fatti adesso non sto neanche a cercarli mi piaceva perché aveva questa tesa adesso io qua l'ho messo su questa testa però aveva la tesa che a me serve molto d'estate il traforo per far passare un pochino d'aria io l'ho fatto in cotone e questo può essere un modello leggermente più complesso rispetto alla concentrazione e alla necessità di calcoli soprattutto se lo dovete adattare alla vostra testa come ho fatto io che quindi richiede un pochino più di processi di preparazione diciamo e di calcoli iniziali allora per quello che riguarda questa sera io spero di avervi detto delle cose interessanti non perché delle novità non ho detto niente di nuovo sono cose che tutti quelli che lavorano a maglia sanno ma di avervi dato un altro modo di guardare quello che fate tutti i giorni un modo per capire che questo è un qualcosa che va al di là di un passatempo è qualcosa veramente di nutritivo per il cuore, per la mente, per tutto e un'altra volta parleremo anche del corpo ho preso in prestito questo titolo di questo libro di Susanna Tamaro Va dove ti porta il cuore per dire che secondo me la cosa comunque fondamentale è quella di regalare a noi stessi e se facciamo dei regali anche agli altri l'emozione di quello che stiamo facendo cioè non farlo come un processo meccanico ma dargli veramente quel valore quell'importanza, quel godimento quella piacevolezza e anche quel divertimento perché la matematica non mi deve spaventare io posso assolutamente divertirmi e mantenere allenato e in funzione al meglio possibile il mio cervello e più giovane, più a lungo possibile anche lavorando a maglia io vi ringrazio molto per l'attenzione e sono ovviamente disponibile per delle domande se ci sono e spero di avervi in qualche modo fatto compagnia per quest'oretta no, più che compagnia Nicoletta direi che sicuramente hai trasmesso tanta passione anche per ecco insomma eh la mappa eh beh eh sì tra l'altro prima e quando hai fatto vedere il gileno che hai fatto per quella ragazzina mi è venuto da ridere perché mia madre da poco ha iniziato appunto a lavorare a maglia lei l'ha sempre fatto però aveva smesso da qualche anno e ha ripreso ultimamente allora lui ho detto beh mamma perfetto mi fai un bel gileno tipo canottiera poi no eh larghina così per l'estate adesso è un po' ferma quindi spero che ci abbia seguito stasera così magari l'hai tornata un attimo la voglia di se no te lo presto così dopo le fredici esatto mamma vedi che no allora esatto allora intanto ehm ringrazio te appunto per per averci insomma dedicato questa serata mi scuso ancora purtroppo mi è arrivata anche una mail e una chiamata durante la diretta perché appunto su youtube non sono riuscita a sistemare la cosa cercheremo di appunto di scaricare eventualmente la diretta da facebook e poi di caricarla su youtube così riusciamo ad avere anche su youtube il video intero purtroppo non non essendo un tecnico non riuscivo a capire eh sì quindi è così insomma comunque ricordo le persone che ci hanno seguito che nei prossimi giorni arriverà la dispensa della serata con anche i contatti di Nicoletta poi ci sono i nostri quindi per qualsiasi cosa rimaniamo tutti a disposizione ecco auguro una buona serata e ringrazio nuovamente tutti e soprattutto te Nicoletta grazie a voi per questa possibilità grazie mille grazie a tutti qua c'è Giselda che dice guarda scusami che ho visto c'è una domanda sempre interessanti le sue dirette ma lei vende anche i filati o può dare consigli su questa situazione non è il caso che io parli della faccio parte di Tempo di Lana ecco diciamo che lo vedeva anche in una delle diapositive quindi magari se vuole andare a cercare sul sito può vedere qualcosa di più non volevo sponsorizzare la nostra attività in questo momento benissimo sì esatto poi comunque appunto ripeto i contatti eventualmente li avrete per cui per qualsiasi cosa potete contattarla certo esatto bene vedo tanti ringraziamenti è stato molto arricchente è vero io non vedo niente invece quindi parlo per un'ora guardando il computer e quindi c'è sempre questa fatica di non vedere che cosa le facce che fanno gli altri o cosa possono dire mi fa piacere se tu leggi questi commenti e sono contenta che ci siano ci sono tanti grazie grazie mille Nicoletta buonasera molto interessante per cui insomma tanti ringraziamenti è stata una serata eccellente molto piacevole allora buonanotte a tutti grazie ciao 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 Ciao.